Buona giornata, ascoltiamo l'invito che la liturgia oggi ci rivolge. La parola di Dio è viva, efficace, discerne i sentimenti e i pensieri del cuore. Lasciamo dunque che la parola di Dio apra il nostro cuore, lo riveli a noi stessi per intraprendere un cammino di purificazione. Ascoltiamo il brano di Luca, capitolo 11, versetti 37-41. In quel tempo, mentre Gesù stava parlando, un fariseo lo invitò a pranzo. Egli andò e si mise a tavola. Il fariseo vide e si meravigliò che non avesse fatto le abluzioni prima del pranzo. Allora il Signore gli disse, «Voi farisei pulite l'esterno del bicchiere e del piatto, ma il vostro interno è pieno di abidità e di cattiveria. Stolti, colui che ha fatto l'esterno non ha forse fatto anche l'interno. Date piuttosto in elemosina quello che c'è dentro. Ed ecco per voi tutto sarà puro». Gesù riceve un invito a pranzo da un fariseo. Non si dice il nome di questo fariseo. Gesù accetta, anche se sa che i farisei stanno organizzando la sua cattura. Gesù cerca sempre il recupero delle persone. Gesù accetta gli inviti anche se si è poi meritato l'appellativo di mangione e beone, ma accetta l'invito perché sa che il pranzo può essere un'occasione di insegnamento. E infatti è un invitato scomodo Gesù. Anche in altre occasioni, quando Gesù è invitato a pranzo, non si comporta come un invitato educato che cerca di piacere a colui che lo ha invitato. Ricordiamo l'invito del fariseo Simone, quando Gesù poi ha dialogato con una peccatrice e ha accusato Simone di non essere una persona che ama sul serio. Un'altra volta Gesù, invitato a pranzo da un fariseo, si mette a osservare come gli invitati cercano e scelgono i posti. Anche in questa occasione Gesù volutamente trasgredisce una tradizione e suscita la meraviglia del fariseo che lo ha invitato. che comportamento ha avuto Gesù? Non ha fatto le abluzioni, non si tratta della norma igienica di lavarsi le mani prima di mangiare, che poi è diventata tradizione molto più avanti nel tempo, ma erano delle norme rituali che prevedevano che prima di sedersi a tavola si lavassero le mani come fa il sacerdote durante la messa per segno di purificazione rituale. Si lavavano anche, si passavano sotto l'acqua in maniera particolare sia il piatto che il bicchiere, evidentemente non perché si supponeva che colui che ti aveva invitato ti aveva messo un piatto sporco o un bicchiere sporco, ma perché erano gesti che ritualmente annunciavano il desiderio della purezza. In fondo a Gesù non costava niente fare questo gesto che la tradizione farisaica presupponeva e certamente Gesù la conosceva, eppure Gesù va contro la tradizione di colui che lo aveva invitato. Questo ci rivela che Gesù non è un maestro che cerca di piacere agli uomini, ma cerca di orientare anche con forza gli animi verso la volontà del Padre. Gesù si accorge della meraviglia che ha suscitato il suo non fare le abluzioni e sa che il fariseo è meravigliato, ma non ha il coraggio di contestargli il suo comportamento, e allora è Gesù che inizia il suo insegnamento. In una parte del suo insegnamento Gesù si ferma sulla abluzione, Gesù non si ferma sulle abluzioni delle mani, ma si concentra su quella del bicchiere e del piatto, perché la pulizia del piatto e del bicchiere gli permette di fare un gioco tra l'interno e l'esterno. Cioè, con questo gesto, quando si pulisce il bicchiere e il piatto in maniera rituale, voi fate attenzione all'esterno, e allora Gesù passa poi al suo insegnamento morale. Voi rischiate di porre attenzione e a tradizioni che non hanno a che fare con l'interno del cuore, ma con l'esterno, e cioè il vostro intimo, il luogo interiore in cui maturate le decisioni, lì dove nascono le vostre azioni, non è raggiunto uno dei vostri riti e rimane non puro, rimane pieno di avidità, di cattiveria. In un'altra occasione Gesù esprime lo stesso concetto, accusando appunto i farisei di dare importanza all'esterno, appunto la pulitura esterna, ma non porre attenzione all'interno. L'immagine è quella dei sepolcri imbiancati, belli fuori, ma dentro pieni di putridumine. Tremendo è questo ammonimento. Gli atti religiosi possono far male. Sono religiosi ma sono atti esterni che nascondono una interiorità che non è pura, un cuore che è pieno di desideri cattivi. Forse anche noi diamo un po' troppo facilmente per scontato il fatto che se facciamo un atto religioso, un battesimo, una comunione, la cresima, se partecipiamo a un funerale, a un matrimonio, se chiediamo la benedizione. Ecco, se facciamo questi atti religiosi, certamente facciamo atti buoni. Invece c'è un atteggiamento, un rito religioso che non fa bene, anzi fa male, quando non è accompagnato da un cuore puro, da un desiderio di fare la volontà di Dio. Gesù in particolare vede un pericolo che rende nulla l'atto religioso. L'avidità, l'avidità che è nel cuore delle persone. Quella avidità, quel desiderio di avere di più di ciò che è necessario. È triste pensare questa cosa ma purtroppo è vera. Possiamo compiere gesti religiosi che la tradizione ci trasmette senza curare che il nostro cuore si impegni con sincerità a un'opera di purificazione interna, a un'opera di svuotamento, di buttare fuori ciò che è male. Ecco la seconda parte dell'insegnamento di Gesù. Gesù consiglia una cura, una cura per evitare che l'atto religioso sia negativo. Qual è questa cura? Sluotare il cuore dando in elemosina ciò che è dentro. Nell'emosina il dono verso i poveri è una grande cura per purificare il cuore. Noi qualche volta dedichiamo troppa energia a curare la cerimonia di un rito ma invece è molto più importante curare l'interno del nostro cuore. Ricordiamo la lode che Gesù ha rivolto a una donna povera che ha donato i suoi due spiccioli. È stata generosa, ha vinto l'avidità. Questo la purifica e la rende adatta all'incontro con Dio. Notiamo che c'è anche un altro tipo di elemosina, quella del tempo, quando uno dedica la ricchezza del tempo, il tempo è denaro, per il bene. Ecco la cura. Vincere l'avidità. Fare elemosina. Questo è il modo, non è certo l'unico, ma è il modo che oggi il Signore consiglia perché i nostri atti religiosi siano veri, siano sinceri, partano da un cuore che realmente cerca la volontà del Signore. O Signore purifica il nostro cuore.